grazie no se dite Matteo quell'altro pensa che siate qua per lui ogni volta non bisogna, dovrò cambiare nome allora innanzitutto innanzitutto grazie grazie a voi che siete qua grazie a chi ci sta seguendo da Radio Padania Libera grazie a chi ci sta seguendo da Sky, da Red News 24, fategli sentire il calore del cuore del Veneto che è il miglior digestivo per chi ha mangiato magari un po' pesante, magari avendo pagato la tasi o avendo capito quanto deve pagare di tasi qualche pensiero e poi due riflessioni su come andare avanti, uno ma perché contestate lo Stato italiano? ma perché uno Stato che per 18 anni processa per banda armata 36 padri di famiglia e dopo 18 anni si accorge che il processo era sbagliato è uno Stato di merda che andrebbe processato processiamo chi fa questi processi che fa spendere tempo soldi e denaro alle persone che frequentano i tribunali italiani sembra di essere nel terzo mondo e questo vale per il processo Papalia per il processo ai Serenissimi e per altri processi il mio pensiero va a una famiglia bergamasca la famiglia dell'imprenditore Antonio Monella che oggi non c'è perché è in carcere condannato a sei anni perché ha ucciso un rapinatore che era entrato in casa sua io vorrei uno stadio che difende chi si difende e non uno Stato che processa chi si difende e riciarcisce i rapinatori non sembra una cosa grande ma in Italia sarebbe già una cosa grande io ringrazio anche chi è tornato a spargere vereno sulla Lega ringrazio i signori del Corriere della Serva che oggi in prima pagina spendono inchiostro e tempo per denigrare la Lega per denigrare le nostre battaglie le vostre battaglie dicendo che siamo dei perdenti ci troviamo qua fra un anno col direttore del Corriere della Sera e vediamo chi sono i vincenti e chi sono i perdenti chi è prezzolato da Roma invece chi è sostenuto dai cittadini e mi spiace che lo faccia un giornale che una volta era milanese ma che adesso è al servizio della Berkel delle banche e della finanza quindi scrivano quello che vogliono a me va bene per i necrologi punto, basta per quanto riguarda la Scozia la Scozia ha vinto la Scozia ha vinto perché hanno potuto scegliere lì la regina Elisabetta ha lasciato che i suoi sudditi votassero noi non abbiamo la regina Elisabetta ma abbiamo Renzi, Napolitano e la Boldrini per i quali valiamo meno di nulla la Scozia ha vinto perché è gente che ha scelto è gente che ha potuto decidere del suo futuro e anche se hanno vinto i no la Scozia ha vinto perché Londra è stata costretta a promettere un sacco di soldi di poteri e di autonomia e siccome oltre manica sono più seri di Renzi queste promesse le manterrando quindi un abbraccio ai fratelli scozzesi che sono stato un esempio di civiltà, di passione di compostezza, di orgoglio e di determinazione anche se ci hanno messo 300 anni e lo dico a chi pensa che l'indipendenza o il federalismo si ottengano in 5 minuti è un processo che ha bisogno di cultura, di educazione di partecipazione e di comunità e quindi un giorno anche noi arriveremo a questo non esistono scorciatoie esiste una forza politica che con tutti i difetti e con tutti gli errori a cui si possono imputare alla Lega è qua in questa piazza con gente che a differenza di quanto accada ai sindacati paga di suo per venire a manifestare noi non regaliamo panini brioche, soggiorni in albergo viaggi in pullman è gente che grazie alla cui testardaggine non solo il nord non solo il Veneto non solo la Padania ma tutta Italia l'Italia che stufa di dipendere da Roma e da Bruxelles sta guardando con attenzione dal Salento alla Sardegna dalla Calabria alla Sicilia ovunque ci sia una persona di buona volontà là c'è la Lega e noi andremo a casa di queste persone uno per uno perché per liberarsi dalla dittatura europea abbiamo bisogno di tutti abbiamo bisogno anche di chi ci sta guardando da casa in questo momento a me non interessa il luogo di nascita di una persona a me interessa come una persona ragiona quindi tutte le persone che vogliono tornare a vivere a lavorare sono benvenute nelle sezioni della Lega Nord che sono aperte alle persone di buona volontà a prescindere dal luogo di nascita mi interessa come uno pensa non come uno nasce proposte proposte io ho una maglietta di una giornata che spero sarà epocale a me piacerebbe però c'è bisogno di voi che sabato 18 ottobre alle 4 del pomeriggio a Milano ci fossero 100.000 persone per dire no a quella vergogna razzista che è Mare Nostrum se Mare Nostrum non lo ferma la politica lo dovete fermare voi 100.000 persone in piazza Duomo a Milano da tutta Italia sabato 18 ottobre dicono basta non c'è più spazio per un solo immigrato punto fino a che non trova un lavoro l'ultimo dei nostri disoccupati non c'è più spazio per nessuno e visto che siamo in diretta televisiva e parliamo ai giornalisti ridiamo alle parole il senso delle parole hanno cancellato dai giornali ai telegiornali la parola clandestino questi non sono migranti questi non sono profughi questi sono immigrati clandestini che arrivano a casa nostra senza essere invitati punto e non possiamo più permetterci di accettare una vergogna del genere con un disabile che prende 240 euro al mese e un clandestino che prende 40 euro al giorno questa non è generosità questa è coglioneria e non lo dice un leghista ma rubo le parole a un grande uomo di chiesa che purtroppo non è più fra noi Monsignor Maggiolini Vescovo di Como un conto è la libertà di religione un conto è la libertà di invasione questi ci stanno invadendo questa non è integrazione questo è un suicidio e noi diremo di no con tutte le nostre energie a uno sterminio programmato di economia e di cultura come quello come quello che stiamo vivendo non è normale che nella scuola materna quadrifoglio nel quartiere Arcella di Padova ci sia una classe con 22 bambini di cui una sola bimba italiana con la mamma disperata questa non è integrazione questo è il suicidio in una cultura e noi non lo permetteremo mai perché in questa classe si dovrà festeggiare il Natale e il 25 dicembre nasce Gesù Bambino non qualcun altro qualcun altro se vogliono lo fanno nascere a casa loro qua il 25 dicembre è Natale punto e basta se gli va bene è così se no il mondo è grande non c'è solo Padova per andare a fare i migranti come dicono le persone per bene asili nido gratis io settimana prossima chiederò a Renzi un incontro non per parlargli dei giudici della Corte Costituzionale che fosse per me sarebbe un organismo vecchio e da cancellare risparmiando un bel po' di quattrini quindi il problema non è quale giudice scegliere il problema è che o li scelgono i cittadini oppure che stiano a casa tutti quanti questi parrucconi e non vado neanche a parlare di legge elettorale perché sicuramente le hanno provate le proveranno tutte per far fuori la Lega ma un'idea non la fai fuori e questa piazza è la dimostrazione che possono fare la legge elettorale che vogliono ma la nostra coerenza non è in vendita le nostre idee non sono in vendita io andrò a fargli qualche proposta qualche proposta l'Italia è il paese europeo che fa meno figli è un paese che non fa figli è un paese che muore perché? perché mandare il bimbo all'asilo nido costa anche 600 euro al mese e se il papà ha appena perso il lavoro la mamma lavora a tempo determinato dove li trovi 600 euro al mese per mandare il tuo bimbo all'asilo nido cosa fanno all'estero? cosa succede in Francia? l'asilo nido è pubblico è gratuito fino ai tre anni e se non mandi il bimbo o la bimba al nido lo Stato ti paga la babysitter fino a 700 euro al mese quanto costa? perché Renzi non mi sembra forte in matematica quindi bisogna spiegargli anche quanto costa costerebbe un miliardo e 200 milioni di euro togliere un'angoscia a migliaia di mamma e di papà costerebbe un miliardo e 200 milioni di euro su 800 miliardi di spesa pubblica dove trovi un miliardo e 200 milioni di euro quanto costa Mare Nostrum nel suo primo anno di vita? un miliardo e 200 milioni di euro meno soldi ai clandestini più soldi ai nostri bimbi e magari ne nasce qualcuno in più non mi sembra una proposta particolarmente intelligente però non si sa mai e se proprio vuoi andare avanti con Mare Nostrum ma la fermiamo noi cosa fanno in Svizzera in Austria in Germania in Olanda in Belgio tassano quello che è il mestiere più antico del mondo regolamentiamo togliamo dalle strade e tassiamo la prostituzione facciamo pagare le tasse alle prostitute ma andiamo all'asilo niente da gratis i nostri bimbi altra proposta che mi sembra intelligente però viviamo in un momento particolare viviamo sotto dittatura mi hanno detto sei andato in Corea del Nord che è una dittatura è vero non c'è libertà di stampa li hanno una televisione un giornale che passano la metà del loro tempo a spiegare ai loro sudditi dalla mattina alla sera che cosa fa il loro grande capo eh ma se sfogli un giornale italiano o si accendi la RAI o Mediaset di Renzi sappiamo tutto il contrario di tutto non c'è gran differenza fra Kim Jong Un e il buon Matteo Renzi da Firenze da questo punto di vista però però perché siamo in dittatura perché è un paese che decide che tu non puoi spendere i soldi che hai guadagnato oltre i mille euro in contanti è un paese che è una dittatura i soldi sono miei i soldi sono vostri dovete poterli spendere come diavolo volete senza poter rendere conto a nessuno un paese che ti impone l'obbligo del banco ma te della carta di credito per 40 euro di spesa ingrassando le banche è un paese del cazzo non esiste ognuno è libero di spendere i quattrini che guadagna come vuole dove vuole quanto vuole quando vuole e questo non lo cambi in mille giorni ma in dieci giorni se vuoi è cominciata la scuola vi par normale che ci siano centinaia di cattedre vuote perché grazie alla legge assurda dello Stato italiano c'è la migrazione di migliaia e migliaia di precari di insegnanti da nord a sud che non mettono piede in classe neanche per mezz'ora perché fin dal primo giorno di scuola hanno fatto arrivare in presidenza il certificato di malattia che i provveditori andassero a controllare casa per casa quelle malattie per vedere quante sono vere e quante sono finte e i concorsi pubblici su base regionale risolverebbero una volta per tutte questo benedetto problema nell'interesse del nord e del sud per evitare che ci siano maestre che lavorano per tre vigili del fuoco che lavorano per tre infermieri che lavorano per tre perché non c'è il dipendente pubblico c'è il dipendente pubblico che si fa il mazzo dalla mattina alla sera e ci sono centinaia di migliaia di fancazzisti che dovrebbero essere licenziati altro che articolo 18 in un quarto d'ora in un quarto d'ora e il dibattito sull'articolo 18 permettetemi è una presa in giro c'è uno di voi c'è uno di voi artigiano commerciante piccolo imprenditore grande imprenditore che non sta assumendo per l'articolo 18 la guerra Renzi e Camusso è una presa in giro è un teatrino non è col Jobs Act che si fa ripartire il lavoro togliete quell'infamia della legge Fornero che lascia la gente fino a 80 anni sul posto di lavoro invece di parlare di articolo 18 cancellate gli studi di settore che stanno massacrando migliaia di commercianti di artigiani e di piccole imprese altro che menata buona per i talk show della domenica dell'articolo 18 e non è togliendo diritti ai lavoratori che si convince l'imprenditore ad assumere l'imprenditore assume se vende il suo prodotto cosa hanno fatto 40 paesi al mondo hanno ridotto il casino fiscale a uno a uno un'unica aliquota fiscale secca uguale per tutti una rivoluzione culturale prima ancora che fiscale una dichiarazione dei redditi di una pagina dove su quello che guadagni tu mi dai il 20% secco brutto sporco subito cos'è successo in questi 40 paesi del mondo hanno sconfitto l'evasione fiscale perché se uno oggi non paga il 60% delle tasse posso anche capire che ci tenga a mantenere la sua azienda tu riducigli una tassazione che adesso è strozzinaggio e vediamo la gente che fa la corsa per andare a pagare quel 20% a quel punto se uno continua a evadere con una tassazione così semplice così bassa lo metti in galera e butti via la chiave però il 20% è un conto il 60% non è tassazione il 60% è un furto di stato e chi si difende da un ladro non è un ladro ma fa legittima difesa quindi io capisco quei piccoli imprenditori artigiani o commercianti che non vogliono buttare nel cesso 60 anni di fatiche dei loro genitori dei loro nonni e a fine mese se si trovano costretti a scegliere se pagare tutto quello che dovrebbero allo Stato o pagare il proprio dipendente preferiscono pagare il proprio dipendente che a casa dei figli perché lo Stato può aspettare può dimagrire e può per quanto mi riguarda ripassare fra un anno fra due anni e fra tre anni a proposito oggi è il 21 settembre io ricordo che uno aveva promesso di pagare 68 miliardi di debiti della pubblica amministrazione nei confronti dello Stato altrimenti sarebbe andato in pellegrinaggio a un santuario fiorentino a piedi qualcuno di voi ha un paio di scarpe e di gomma da regalare a Matteo Renzi per permettergli di mantenere la promessa perché è l'ennesima palla del fiorentino che è anche pericoloso che è anche pericoloso perché chi in un momento di crisi internazionale come questa con quello che stiamo vedendo succedere in Iraq e in Siria chi in un momento come questo dove il nemico del mondo sviluppato è solo uno chi in un momento come questo perde tempo a giocare alla guerra contro la Russia e contro Putin è un cretino pericoloso che va fermato perché con Putin bisogna dialogare e bisogna ragionare per evitare il pericolo che è quello degli estremisti islamici quindi io a ottobre andò in Russia anche per difendere il lavoro di migliaia di imprenditori e di operai veneti lombardi piemontesi che stanno perdendo decenni di sacrificio per delle sanzioni che fanno comodo solo all'Unione Europea e agli americani se volete fare la guerra fate la casa vostra non rompete le palle a chi sta cercando semplicemente di lavorare e quindi su questo il messaggio è chiaro nel 2014 le bombe non risolvono niente nel 2014 le persone intelligenti ragionano non fanno le guerre futuro è indipendenza l'indipendenza ha bisogno di lavoro l'indipendenza senza lavoro non va da nessuna parte l'indipendenza ha bisogno degli artigiani dei commercianti delle partita IVA dei piccoli imprenditori e soprattutto degli agricoltori quegli agricoltori che Bruxelles sta massacrando scientificamente e se stare in Europa significa vendere definitivamente la nostra agricoltura e la nostra pesca via fuori dall'Europa non ci serve un'Europa che sta massacrando la nostra gente i nostri lavoratori e ci vuole portare in tavola quello che arriva dall'altra parte del mondo vogliamo mangiare e bere quello che mangiavano e bevevano i nostri nonni non schifezze che arrivano dall'altra parte del continente e se serve mettiamo dei dazzi per difendere le nostre produzioni come fanno tutti i paesi evoluti del mondo dazzi 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 lo ripeto quattro volte così va di traverso qualcosa a qualcuno però se li impongono in India in Cina negli Stati Uniti in Brasile e noi no perché siamo più intelligenti perché così dice Bruxelles c'è qualcosa che non funziona a Bruxelles no preferirei non sentirmi il bravo e preferirei che l'agricoltura e la pesca andassero avanti di loro l'indipendenza ha bisogno di un ambiente sano e di un ambiente integro quindi io ringrazio i governatori e i sindaci della Lega che stanno bloccando altro cemento e soprattutto altri centri commerciali che stanno massacrando alla nostra economia e il nostro commercio ne abbiamo già a sufficienza anche perché sono posti che schiavizzano la gente costringendola a lavorare sette giorni su sette e a perdere qualsiasi tipo di contatto col resto del mondo io sottoscriverò assolutamente la proposta di legge che vieta di lavorare sette giorni su sette perché a casa ci sono mogli ci sono genitori ci sono figli ci sono amici ci sono parenti che almeno una volta ogni tanto hanno diritto di essere guardati in faccia quello non è lavoro quello è schiavismo quello è sfruttamento e a proposito di sfruttamento un consiglio al volo per gli uomini della finanza di Equitalia e dell'Agenzia delle Entrate che magari ci stanno guardando in televisione invece di inseguire lo scontrino da due euro andate a verificare tutte le false cooperative che sfruttano a quattro euro allora uomini e donne che cooperative non sono ne saranno mai perché quella è la vera concorrenza sleale non lo scontrino del panettiere andate a vedere quante sono cooperative magari rosse e quante invece sono modi di evadere le tasse l'indipendenza ha bisogno di cultura ha bisogno di identità ha bisogno di musica ha bisogno di cinema ha bisogno di teatro ha bisogno di lingue locali ha bisogno che i nostri giovani che vogliono fare cultura e musica non debbano pagare il pizzo alla SIAE che ha il monopolio di tutto e di tutti e che non esiste in nessuna parte d'Europa mettiamo un po' di concorrenza anche nel mondo della cultura perché la cultura non è di sinistra non bisogna avere la tessera del PD per cantare o per fare poesia anzi la sinistra ha massacrato la cultura in Italia appiattendo tutto quanto disintegrando tutto quello che non è il politicamente corretto è questo il rischio che stiamo correndo perché l'indipendenza è sangue perché a Edimburgo io mi emozionavo quando camminavo per quelle strade perché c'erano bambini di dieci anni che pensavano e pensano a un futuro diverso perché c'erano ragazzi di sedici anni che non vogliono essere costretti a emigrare dall'altra parte del mondo per cercare un lavoro perché 4 euro al giorno con contratti di un mese non è lavoro proviamo noi come Lega a ridare dignità al lavoro visto che i sindacati l'hanno massacrato un minimo di stipendio che venga garantito a chi viene non impiegato ma sfruttato è doveroso è di sinistra è di destra non lo so secondo me è di buon senso io non riconosco le vecchie categorie destra e sinistra adesso è di moda il dibattito dov'è il centrodestra bu bu su su Alfano non pervenuto non ho niente da dire non c'è niente da dire è chiaro che non puoi costruire l'alternativa a Renzi con chi governa con Renzi vota l'indulto vota lo svuotacarceri dà la mancia ai carcerati e ci porta 130.000 immigrati clandestini se c'è Alfano non c'è la Lega molto semplice se c'è l'NCD non ci siamo noi banale banale e Forza Italia Forza Italia deve decidere se è maggioranza o se è posizione Forza Italia non può incontrare Renzi dal lunedì al sabato e ricordarsi che la domenica mattina c'è la Lega noi abbiamo tante proposte da fare qualche dirigente di Forza Italia mi ha detto però vi accordate con noi o sarete irrilevanti io non metto in vendita la nostra coerenza il nostro progetto e la nostra dignità per due poltrone quindi preferisco essere rilevante fuori e aspettare di tornare a essere rilevante dentro piuttosto che fare accordi a ogni costo e se si votasse domani mattina se si votasse domani mattina la Lega andrebbe da sola punto da nord a sud la Lega andrebbe da sola da nord a sud perché i nostri progetti non sono merce di scambio poi per carità del doman non ve certezza quindi magari cambieranno le cose magari Alfano uscirà dal governo magari bloccheranno Mare Nostrum magari anche Berlusconi ci aiuterà su cancellare gli studi di settore cancellare la legge Fornero sull'aliquota fiscale unica sugli asili nido sulle pensioni di invalidità vi ricordate che quando c'era la Lega al governo venivano controllati e beccati migliaia di falsi invalidi e adesso invece non si controlla più niente nessuno quindi Matteo manda fare qualche controllo in qualche zona d'Italia vedere se sono invalidi veri o invalidi falsi che magari riusciamo a dare qualcosa in più rispetto all'elesmosina di 248 euro che oggi diamo ieri ero a Roma perché poi la Lega deve avere la stessa parola ovunque parli io negli ultimi mesi ho cominciato a fare quello che mai avrei pensato di fare quando ho fatto la tessa della Lega nel 1990 ho iniziato a essere invitato in tantissime realtà da associazioni da amministratori da comunità del centro e del sud in Calabria in Puglia in Sicilia in Sardegna dove c'è gente che ne ha le scatole piene della mafia della Camorra dell'Andrangheta delle processioni che si fermano a fare l'inchino sotto la casa del boss di quelli che si vanno in giro in Tremmo Torino e non si fermano all'alto dei carabinieri ma davanti all'alto dei carabinieri ti fermi perché così funziona uno stato civile prima ti fermi e poi parliamo di tutto il resto io penso che la sconfitta della dittatura europea e non uso parole a caso perché penso che questa Unione Europea sia stata costruita in maniera genialmente diabolica per togliere qualsiasi tipo di libertà alle realtà locali per sconfiggere questa dittatura mascherata da democrazia noi abbiamo bisogno delle energie pulite di tutta la gente per bene e quindi noi siamo e saremo orgogliosamente Lega Nord per l'indipendenza della Padania e non cambiamo nome non cambiamo simbolo non cambiamo bandiera non cambiamo statuto e non cambiamo obiettivi ma se nasceranno come nasceranno dei soggetti che si ispirano alle nostre idee di libertà alle nostre battaglie sarebbe sciocco ed egoista da parte nostra dire no non mi interessa noi abbiamo il dovere di dadunare tutte le persone di buona volontà che vogliono lavorare io penso che il Veneto voglia semplicemente tornare a lavorare perché se lavori hai speranza se lavori pensi al futuro pensi alla famiglia se non lavori invece celebri uno di quei 149 omicidi di Stato che sono stati suicidi per motivi economici dell'anno scorso che non hanno avuto i funerali di Stato che hanno i cosiddetti migranti perché erano solo imprenditori padri di famiglia operai artigiani che ormai non fanno più neanche notizia questa piazza oggi è anche per loro è per queste 149 famiglie che uno Stato ladro ha privato della mamma e del papà togliendo dignità al loro lavoro con uno strozzinaggio fiscale che non ha uguali d'Europa e le bandiere di San Marco oggi sventolano per loro e mi piacerebbe che chi ha a cuore le battaglie per l'indipendenza e per l'autonomia non si dividesse in 18 gruppuscoli e sottogruppuscoli divisi non arriviamo da nessuna parte chi ha voglia della libertà deve mettersi insieme e rinunciare agli egoismi o agli orticelli personali altrimenti a Bruxelles e a Palazzo Chigi se la ridono della grossa chi vuole il Veneto libero deve dare una mano alla Lega perché noi ci siamo arrivati e ci arriveremo altrimenti divisi non andiamo a nessuna parte e questo vale per i Sardi vale per i Salentini e vale per i Lombardi e noi ci arriveremo e chiudo ci arriveremo perché la nostra idea non muore ci hanno provato in tutte le maniere diffamandoci comprando promettendo promettendo iludendo processando non ci hanno fermato perché la libertà o ce l'hai dentro o vuoi tornare a casa la sera da tuo figlio a testa alta non perché hai rubato non perché hai evaso ma perché hai lavorato e uno stato normale ti lascia in tasca almeno la metà dei frutti del tuo lavoro io penso che l'egoismo non sia quello dei Veneti che per reazione e per storia a proposito ricordiamolo a qualche giornalista un po' ignorante che la Repubblica Serenissima ha qualche secolo di storia alle spalle che qualcuno si dovrebbe andare a studiare prima di andare in televisione a dire cazzate ma noi staremmo bene con tutti però con sulla base di un reciproco rispetto sulla base di un reciproco rispetto che oggi lo stato italiano non garantisce a chi vuole lavorare seriamente e onestamente e quindi noi chiediamo un po' di rispetto la parola razzismo è una parola impegnativa che ci tenono dietro in maniera sciocca troppo spesso significa che qualcuno in questa piazza o su questo palco si sente superiore a qualcun altro per razza io penso che nel 2014 sentirsi superiore a qualcuno per razza sia una cosa senza senso però un conto è sentirsi tutti uguali e premiare il merito un conto è farsi derubare dei frutti del proprio lavoro e di aziende costruite con decine e decine di anni di sacrifici il vero razzismo lo stanno esercitando a Bruxelles e a Palazzo Chigi e quella del Veneto è solo e solamente legittima difesa e quindi io spero che il Veneto sia il primo di una lunga serie di popoli orgogliosi che ricordano a chi vive in Italia che non abbiamo niente da imparare da nessuno sono contento di questa splendida piazza e vi ringrazio di cuore a uno a uno perché essere qua significa un sacrificio perché pagare i 20 euro per il Pullman magari per qualcuno di voi che ha appena perso il lavoro significa non portare suo figlio a mangiare la pizza settimana prossima però io penso che la libertà e il futuro dei nostri figli valga qualche sacrificio quindi questa bellissima piazza di oggi è collegata grazie alla radio a internet a televisione a tantissime altre piazze in Italia non per buffonate che non interessano a nessuno devo dire che anche qualche giornalista si sta accorgendo di cos'è la Lega oggi Gian Paolo Pansa su Libero dice le ultime due opposizioni rimaste in Italia sono quella di Grillo e quella della Lega piccolissima differenza l'opposizione di Grillo non porta assolutamente a niente di concreto se non alla cancellazione del reato di immigrazione clandestina che è una vigliaccata che stiamo pagando con migliaia di sbarchi al giorno mentre l'opposizione della Lega è un altro tipo di opposizione poi leggevo l'intervista di un banchiere lapsus interista scusatemi sono ancora fermo ieri sera leggevo l'intervista di un banchiere che ha fatto il ministro con Monti del signor Passera che anche lui riconosce le uniche opposizioni in Italia sono quelle di Grillo e della Lega e sarò io a ricostruire al centrodestra ma hai fatto il ministro con Monti lascia perdere ritirati coi soldi che hai guadagnato nella tua vita e non venire a prendere in giro gli italiani lascia stare abbiamo già visto cosa hai fatto non abbiamo più bisogno di nuovi geni della banca della finanza per spiegare a un artigiano come si fa l'artigiano questo è un movimento di gente semplice che fa battaglie semplici battaglie semplici qualcuno dice battaglie del passato no noi abbiamo detto di no alle adozioni gay perché l'indipendenza ha bisogno di una società e una società ha delle regole ben precise e quindi io dico che rispettando le scelte di tutti rispettando le scelte di vita di tutti e sbagliano quelli che usano parolacce o sparano cazzate parlando degli omosessuali ognuno ha diritto di vivere la sua vita come vuole non è lo Stato che deve entrare in salotto in cucina o in camera da letto ognuno è libero di vivere la sua vita come vuole basta che lo Stato non prenda la scelta di una maggioranza per legge di una minoranza per legge da imporre a una maggioranza il matrimonio ha bisogno di un uomo e una donna e i bambini vengono adottati laddove ci sono un uomo e una donna non dove ci sono i genitori uno due tre quattro cinque sette mamme o otto papà il rispetto per le scelte del singolo è un conto l'imposizione come modello delle scelte di questo singolo alla maggioranza è un altro conto perché il buon Dio e la natura hanno deciso che se non si incontrano almeno per un quarto d'ora un uomo e una donna difficilmente succede qualcosa e la natura è meglio non disturbarla perché la tragedia del Vaillant non è lontana da qua e quindi quando l'uomo violenta la natura giustamente la natura si incazza e si ribella quindi la lega movimento normale per persone normali quando il concetto di normalità non è un giudizio etico morale ma è un giudizio che riconosce il merito delle persone che sono libere di fare vivere amare e pregare come vogliono pregare come vogliono apro e chiudo la parentesi l'islam non è solo una religione ma è una religione usata da qualcuno per portare a casa nostra un modo di vivere barbaro e incompatibile con le nostre civiltà le nostre libertà i nostri diritti soprattutto nei confronti delle donne e io mi chiedo dove cazzo sono le femministe che vanno in piazza a spogliarsi ogni quarto d'ora quando c'è una religione che dice che la donna vale meno rispetto all'uomo fatevi sentire care signore vi stiamo aspettando in piazza altrimenti devo supporre che siano solo femministe di convenienza e a pagamento una bellissima città una bellissima manifestazione la Scozia è un successo è una democrazia è un modello da seguire il 9 novembre spero possa toccare alla Catalogna e poi tocca al Veneto poi tocca a voi poi il diritto di scelta è vostro non di qualcun altro e il Veneto deve essere l'inizio della fine di Bruxelles che è un regime che sta massacrando popoli economie e speranze grazie viva la Lega viva il Leone di San Marco e grazie a ciascuno di voi per il sacrificio l'anima e la passione che ci mettete se non mollate voi non mollo io e non molla nessuno di coloro che è sul palco grazie ragazzi uniti si vince viva San Marco e viva tutte le persone di buona volontà che in Padagna e in Italia vogliono lavorare e costruire un futuro libero grazie buon rientro e sarà un autunno che non vi dimenticherete facilmente vi aspetto tutti sabato 18 ottobre a Milano perché Mare Nostrum lo facciamo finire noi sabato 18 ottobre e quelli tornano tutti a casa loro sulla barchetta con cui sono arrivati grazie 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 non vogliamo che ce la facciamo